Quasi 80.000 preferenze raccolte alle regionali e lo scettro di primo partito con il 16% circa dei consensi. Il PD di Salerno rivendica il risultato elettorale non solo per il bis del governatore a Palazzo Santa Lucia, ma anche per la vittoria alle amministrative. Piero De Luca ha chiamato a raccolta sindaci e dirigenti DEM presso la sede provinciale di Salerno, l'occasione per fare il punto non solo sui risultati, ma anche sulle sfide future. Questo credo sia la più grande soddisfazione, aver contribuito a fornire e a mettere a servizio dei comuni al voto degli amministratori davvero capaci di dare risposta ai problemi reali delle nostre comunità. Ora abbiamo la possibilità anche in questa provincia di continuare il lavoro svolto sul tema della depurazione delle acque, del ciclo della gestione, del ciclo integrato dei rifiuti, delle manutenzioni stradali, delle manutenzioni negli edifici scolastici e poi continuare il lavoro, ossessivo direi, per sostenere e supportare l'apertura dell'aeroporto di Salerno, che sarà davvero l'infrastruttura strategica che caratterizzerà il futuro, non solo il presente, ma soprattutto il futuro e le prossime generazioni in questa provincia. Credo che il modello di impegno del Partito Democratico in Regione Campania sia un modello che può essere messo anche al servizio del Partito Nazionale. Soddisfatto anche il segretario provinciale Enzo Luciano, che ha sottolineato lo sforzo collegiale su tutto il territorio salernitano. Il Partito Democratico si è concentrato per far sì che la lista di partito riuscisse a recuperare quanti più voti possibili, superare i 70.000 voti nelle condizioni date, cioè alla presenza di altre liste civiche di programma comunque importanti, è un dato importante.